buongiorno ragazzi sono appena arrivato su uno spot è la prima volta che vengo a pescare qui sono all'interno di un bacino che è collegato col mare qui in passato vi erano degli allevamenti e adesso sono rimasti solo i bacini e niente ho circa un metro di fondale quindi sto pescando semplicemente con un galleggiante all'inglese piombato e un metro di terminale senza avere nessun tipo di piombolo sulla lenza e speriamo bene dai cerchiamo di aggiornarci dopo ciao ragazzi guardate che spiccoletta minuscola però dai speriamo che stiano cominciando ad entrare in attività per evitare di fargli male non è facile ecco la ragazzi liberata è andata via ragioniamo ora tenlo ecco la ragioniamo Ciao Grazie a tutti. 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 Purtroppo nulla di taglia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.